Vogliamo sapere di cosa si occuperà questa associazione, come è nata, perché è nata. La nuova associazione Terza Pagina, che io presiedo con grande onore e onere, si occuperà di cultura, editoria, in parte anche di giornalismo. Vogliamo essere una voce culturale all'interno di questo panorama cittadino e pelinio, così già ricco di associazioni. Vogliamo essere una voce da terza pagina, da cultura, insomma. La terza pagina, non prima, seconda, ma diciamo dall'idea di quell'approfondimento che tutti cercano, al di là della cronaca, al di là delle notizie che conosciamo. Certo, è la terza pagina, è la pagina di cultura, è la pagina dell'approfondimento, è la pagina noi vogliamo far pensare, vogliamo far riflettere, vogliamo far pensare. Allora c'è già un primo appuntamento in calendario per lunedì 30 aprile, alle ore 18, nella sede della caverata musicale sul Monese, quando verrà presentato questo testo di Francesca Casamassima, immagini delle metamorfose di Giovanni Andrea, dell'anguillara. Che cosa c'è di nuovo anche di particolare? Allora, innanzitutto questo è un libro che sarà presentato in anteprima nazionale qui a Sulmona. La Francesca Casamassima è una ricercatrice dell'Università degli Studi di Macerata, dove insieme al professor Giuseppe Capriotti si sta conducendo uno studio proprio della fortuna di Ovidio e in particolare delle metamorfose di Ovidio nell'arte. La Francesca Casamassima si è soffermata proprio sulla rappresentazione delle metamorfosi tradotte da Giovanni Andrea dell'anguillara e ci porterà appunto questo suo studio pubblicato dall'Università. Giovanni Andrea dell'anguillara è stato il traduttore di Ovidio più famoso, lasciami passare il termine, del 1500. Infatti qui sarà proprio l'edizione del 1563-1584. Ci si soffermerà su quelle edizioni.